ciao a tutti e benvenuti nel canale in questo video vi mostrerò in anteprima la posizione della moneta d'oro della settimana 7 di fortnite per la stagione 4 la moneta in questo video naturalmente non c'è perché sarà disponibile da giovedì però vi posso mostrare la posizione in anteprima svelata analizzando i file del gioco la moneta d'oro questa settimana si troverà al dominio doom nella dimora di doom quindi praticamente qua vedete qua dove c'è la dimora di doom io consiglio di farla magari in lista squadre perché almeno così non c'è doom a rompervi le scatole una volta che siete entrati nella dimora scendete giù qui dove ci sono le botti aprite la porta e la moneta d'oro è praticamente in questa gabbia cioè in questa cella qui per la precisione qui dove sono io vedete qua quindi potete sia entrare qui e la prendete direttamente sia magari fare il giro entrare da qui e poi rompere la la prigione la gabbia quello che è questa è la posizione della moneta d'oro per la settimana 7 che vi ricordo sarà disponibile da giovedì grazie